Buongiorno ragazzi, sono il trucco, mi sono fatta la doccia, ho dovuto fare due trampi per togliere tutto il gel che avevo comunque adesso trucco e dopodiché facciamo un brunch veloce e poi andiamo un pochino per il centro poco poco non avremo tantissimo tempo però magari riusciamo a fare qualche fotina anche se piove fuori questo è il nostro brunch, io sto aspettando che mi portino dello yogurt e quindi ho preso nel frattempo due croissant, un po' di frutta e spremuta, anche tu spremuta e poi salato invece salato stavolta, pesce, pesce, formaggio, pane e focaccia, buon appetito, grazie nel frattempo è arrivato anche il mio yogurt greco, abbiamo ordinato anche, anzi io ho ordinato anche due cheeseburger, delle patatine, quindi veramente brunch molto molto ricco e Tomas ha ordinato ancora le uova e stanno arrivando guardate che cosa ha preso Tomas oggi è la prima volta la prima volta in questo viaggio dici sono buoni? buonissimi sembrano buoni ho cominciato con il giallo il giallo è il più buono perché è il caramello è buono, sì adesso comincio, adesso prendo il verde ok com'è? in qualche pistacchio è buono? sì e quegli arancioni dovrebbero essere tipo mandarino o arancia, li ho assaggiati ieri non sei tanto convinto non sei tanto convinto buoni? sì non ti vedo convinto ho capito il gusto secondo me è tipo mandarino o arancia una roba del genere oh sì sì oggi non mi piace ok stiamo andando verso uh Cambon Chanel dovrebbe essere a pochi passi sono tre minuti dal nostro hotel due tre minuti quindi dovrebbe essere subito qua a destra e sta anche piovendo e sta piovendo ma noi abbiamo fregato l'ombrello in hotel quindi siamo siamo da Chanel facciamo un po' di shopping 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 era veramente dietro l'angolo praticamente ci abbiamo messo tre secondi e questo è quello di Rue Cambon ragazzi quello originale originale il primo Chanel al mondo è molto molto bello è anche molto grande non sembra ma si va di là e c'è un'altra sala grandissima e se non sbaglio si va anche su a me piace molto le borsette queste gialle? no a meno se no non le metto mai arrabbiata? non c'è non c'è arriverà adesso arriverà alla fine sono riuscita a trovare quello che cercavo non vi anticipo niente però vi farò vedere tutto in un video però l'ho fatto ti piace fare shopping? si si però quando compro i video grazie viva la sincerità ci siamo quasi tra un po' inizia l'imbarco e si torna a Venezia sei contento Pupetto? anche io e notare i danni che abbiamo fatto danni danni ci stiamo imbarcando tre colpetti porta fortuna e via cosa stai mangiando? il kit kat ah e mi dai un pezzetto? bello Pupetto mi dai un pezzetto? mi dai un pezzetto? mi dai un pezzetto? guarda mi dai un pezzetto? non sente? eh no? guarda fuori ah proprio non mi caga è buono? si ah questo senti? mi dai un pezzetto? ah questo non lo sente più che strano oh sa che devi facersi all'etica tu fai così non badate alle mie calze ragazzi ma sto comoda così dai questo per me? no non lo voglio no scherzavo te lo lascio a te non è bianco ma fosse bianco sarebbe più buono vero? ah buono siamo sopra le nuvole e io mi sono sistemata bello e comodo così buonasera siamo in una mia casetta dai nostri dati è l'ora tu sei sempre in giro e abbandoni il tuo figlio si tu abbandoni me che sono garo never oddio si trema la coda oddio si trema la coda trema la coda trema la coda quando gli trema la coda vuol dire che le coccole devono arrivare immediatamente immediatamente che bravo che bravo e sa com'è la caldaia si è spenta la caldaia si è spenta no è accesa incredibile ma vero e gatta stellina e gatta stellina ciao ciao gattina mia ciao gattina mia ciao mia mia la gatta più invecchia più diventa chiacchierona dovete sapere mia gattina mia gatta tutta scoiatolina che brava che brava ragazze ragazzi rieccoci dopo parigi finalmente tornata a casa con la mia vestaglia vestaglia domestica e nel mio bagno quindi adesso mi strucco e poi andiamo a nanna domani Tomasch lavora ed è già parecchio tardi quasi mezzanotte e io come al solito la voglia di truccarmi praticamente non ce l'ho però dobbiamo 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 per il bene delle nostre pelle mi raccomando non andate mai a dormire con il trucco addosso io una volta lo facevo quando ero più piccola e avevo il mascara mi svegliavo la mattina ero tipo un panda con il mascara che mi colava tutto nero attorno e anche il cuscino era tutto sporco di mascara comunque questo beh ricapitolando sono stati dei giorni bellissimi a Parigi davvero hanno organizzato tutto al massimo sia l'albergo era veramente splendido poi ma tutto gli eventi la cena le location incontrare Marc Jacobs che poi oggi stavo uscendo dal mio hotel e c'era Anna Dello Russo che stava entrando quindi ci siamo fatto una foto assieme lo so assurdo ho visto modelle che vedevo in giro costantemente ma non le avevo mai incontrate personalmente tipo le vedevo passare e poi Chanel Rucambon il primo Chanel lo store avete visto era tipo dietro l'angolo cioè non ci potevo credere e ho trovato la borsa che cercavo quindi sono molto felice ma vedrete tutto in un video hall e mi è fatto tanto piacere aver conosciuto Alexandra Pereira la ragazza spagnola lei è una blogger instagrammer fa anche qualcosina su youtube ma il suo focus è più instagram blog e mi ha fatto tanto tanto piacere conoscerla perché è una ragazza veramente alla mano proprio insomma è difficile in questo ambiente incontrare persone come lei e quando mi ha detto perché così ci siamo messi a chiacchierare perché io ovviamente da follower sono andata lì oddio io ti seguo sempre oddio ero super ma se posso farmi la foto cioè io proprio fan spudolata ma lei era super contenta e quando mi ha detto mi sento sempre fuori luogo in questi eventi è stato esattamente quello che io ripeto da anni e anni e anni quello che continuo a dire a Tomas che continuo a dire alle mie amiche e quando me l'ha detto lei mi sono rivista troppo e quindi è per questo che ci siamo capite quando trovo una due tre persone che sono sulla mia stessa energia vi giuro che è una cosa più unica che era davvero questi sono i miei come si dice i miei pensieri le mie constatazioni quindi niente questo è tutto per oggi vi mando un bacio grandissimo vi auguro una buona notte un buongiorno un buon pomeriggio dipende da che ora è quando state vedendo questo video andrà online martedì credo questo video quindi noi ci vediamo domani con un nuovo video cerco di caricare le 17.30 ma lo sapete a volte non riesco proprio sempre ad essere puntuale però assolutamente come sempre lo sapete come come sempre lo sapete ogni giorno del lunedì al venerdì nuovo video bacio ciao vabbè ragazzi mi sto togliendo il trucco nel frattempo stavo guardando le stories su instagram e vedo che mi hanno taggata un occhio truccato l'altro no beh vedo che mi hanno taggata chi è che mi ha taggato mark jacobs beauty il profilo ufficiale hanno messo le mie stories cioè io non ci posso credere oh my god la felicità la felicità ci sono rimasta io così oh mio dio vabbè ok adesso vi do la buonanotte davvero ok dovevo condividerla questa cosa ok buonanotte buonanotte